Un altro tema che sta molto a cuore è quello della sicurezza, adesso si è parlato, c'è stata la riforma della legittima difesa, si è fissato un tassello che per voi è molto importante, ma cosa vuol dire sicurezza nel territorio e quindi a livello nazionale, dei confini, sicurezza poi nei comuni? Ma la sicurezza nel territorio vuol dire innanzitutto rafforzare i nostri agenti di polizia, penso alla polizia, ai carabinieri, alla finanza, ai militari, a tutti gli organi che sono deputati alla sicurezza di tutti noi cittadini, sicurezza si fa all'interno del territorio nazionale, in tutti i suoi profili e le sue declinazioni e anche all'esterno. La battaglia di Matteo Salvini e di questo governo poi è quella di aver bloccato non fino al 100% ma veramente a tassi altissimi, quasi arrivando al 100%, gli sbarchi che quotidianamente noi eravamo abituati a sentire, ad ascoltare, a leggere sui giornali e sentire ai telegiornali quotidianamente, tutti i giorni. Abbiamo letto anche di provocazioni di queste ONG che ormai sono diventate delle aziende vere e proprie a scopo di lucro, che vagano in mezzo al mare con addirittura di danari che sono riusciti a compararsi delle grandi navi e che vagano per il Mediterraneo centrale, dall'Italia e la Libia e raccolgono e incentivano l'immigrazione clandestina. Perché bisogna dire questo, la presenza di queste ONG che sono una minaccia per la sicurezza nazionale, perché loro creano l'incentivo a chi sta dall'altra parte a prendere in mano un gommone delle barche, delle scialuppe in assenza totale di sicurezza e ad avventurarsi nel mare verso l'Italia con la speranza che qualcuno di queste ONG li recuperi. E questo abbiamo visto, abbiamo visto anche Casarini che cosa ha fatto in mezzo al mare, è andato a recuperare. Ecco, questa è una minaccia alla sicurezza nazionale. Dicono, eh ma questa gente cosa vuoi che faccia? No, è un segnale molto forte questo, che in Italia si deve entrare legalmente, in Italia entra solo coloro, solo coloro i quali scappano effettivamente da una guerra. Ecco, dopo però c'è stato il discorso nei comuni, l'allocazione di queste persone nei diversi territori. Questo è un grave fatto. Esatto, questo è un problema che adesso si sta manifestando. Eh, si sta manifestando, si è palesato negli anni scorsi, soprattutto sotto il governo Renzi che ha venduto un po' di flessibilità all'Europa, praticamente riempendoci di campi profughi e con i 35 euro, ingrassando cooperative che oggi abbiamo visto che con la diminuzione a 18 euro della paga giornaliera a queste cooperative, dall'oggi a domani non fanno più beneficenza, non fanno più solidarietà, non aiutano più il prossimo perché i conti non quadrano. Allora, solo se i conti quadrano abbiamo la solidarietà, se i conti non quadrano la solidarietà va a farsi benedire e queste cooperative spariscono e non partecipano neanche più ai bandi. Un altro punto importante che io trovo un serio documento d'anno per anche i comuni, cioè disseminare queste persone all'interno dei comuni in strutture, in proprietà private, hotel. Però dicono che la Sprar, famoso, dovrebbe essere, che così magari si riescono a controllare meglio, a integrare meglio, che poi il discorso finale è quello dell'integrazione di queste persone. Ma l'integrazione è importante, ma noi dobbiamo integrare chi lo vuole innanzitutto e chi è in Italia ed è entrato legalmente e perché ne ha diritto. Noi non possiamo spendere milioni di euro, ma non milioni, miliardi di euro per questa accoglienza che molto spesso si è palesata essere una finta accoglienza. Cioè gli hotel, le strutture erano diventate di semplici alberghi dove la gente andava a mangiare, a dormire, durante il giorno vagavano per le città, tanti anche sono scomparsi, hanno preso il treno, sono andati verso la Germania, verso la Francia, dove lì hanno molte famiglie, hanno amici, eccetera. Quindi oltre al danno abbiamo avuto anche la beffa. Quindi l'immigrazione quando è contenuta e controllata e soprattutto si riesce ad integrare va bene, ma quando abbiamo invece un'immigrazione massiccia, illegale, incontrollata, noi non sappiamo neanche da dove vengano queste persone. Ci possono raccontare che vengono dalla Nigeria come da Burkina Faso, tanto noi non sappiamo niente, non arrivano neanche con i documenti, però il cellulare ce l'hanno e possono avvisare a casa che sono tornati, che sono arrivati in Italia sani e salvi. Non è questo il modello di immigrazione in Italia, abbiamo avuto una cattiva immigrazione, gran parte clandestina e i peggiori si sono fermati in Italia, i migliori invece se ne sono andati. Oppure abbiamo il caso tedesco con i siriani che hanno aperto ai siriani finché ne avevano bisogno, gente istruita, che andava all'università, o comunque immediatamente preparata, che scappava realmente da una guerra. Quando la Germania e la Merkel erano a posto abbiamo pagato la Turchia, abbiamo bloccato le frontiere così non è più entrato nessuno e in Italia abbiamo continuato grazie a Renzi che ha svenduto questa accoglienza con un po' di flessibilità per il job act e altre misure che ha fatto e ci siamo riempiti di campi clandestini. Penso a Sona, ma penso anche a San Ferdinando in Calabria, cos'è successo. Sono realtà che non sono degne di un sistema e di un paese civile come l'Italia. L'ultima cosa, come finirà la questione banche? La questione banche, il governo finalmente sta arrivando alla conclusione di un primo passo che è quello di rimborsare i truffati. Una volta si andava in banca dal direttore della banca e sembrava di andare dal prete, era una persona di riferimento insieme al prete, il sindaco della propria comunità. Poi ci siamo resi conto che le banche facevano solo gli interessi esclusivamente privati e per raggiungere una quota di bilancio. Così non va bene. Fortunatamente il governo andrà a ripianare una parte di danno che hanno subito anche molti anziani, ignari, che firmavano questi acquisti indelicati, incauti. E ho letto proprio oggi che a breve arriveranno anche i primi rimborsi per chi ha un patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro. Quindi insomma stiamo adesso a questo a vedere. Stiamo a vedere, ripeto, i miracoli non si fanno sulla terra, i fenomeni non ci piace farlo, bisogna lavorare pancia a terra, stare sui temi e con umiltà e i risultati arriveranno. Benissimo, io la ringrazio, buon lavoro a questo punto, ce n'è da fare effettivamente. Grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, appuntamento come sempre domani. Grazie a tutti.